17 agosto, marina di grosseto, tempi di check sound qua tutti che fanno domande batteria dimmi oh ragazzi mamma mia anche stasera siamo venuti qui è il 17 di agosto, la gente sta al mare noi siamo venuti a fare il concerto qui a marina di grosseto e ci siamo solo noi cinque ma siamo proprio sicuri? non lo so, giriamo un attimo la camera forse c'è qualcuno? c'è qualcuno? anche stasera a farci compagnia ci siete voi? grazie scherzetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti